Matteo, via! Si fai a*****a entra qui dentro! Io? Ma chi cazzo è che ci fa la foto? Ahahahah! Aspetta eh, la foto è dentro! Chi ce la fa la foto però? Qualcuno che ci faccia la foto? No, no, con questa! Aspetta con questa! Vieni, vieni a chi ti fa la foto! Scusi, sei la più bella di tutto il GF! Abbraccio Matteo! Un bacio Matteo! Un bacio Matteo! Vieni, si trocca a fare le foto per il giornale! Vieni, Susi! Ma questa non è una foto! Qualcuno che ci faccia una foto! Ragazzi, una foto! Facciamoci fare una foto! Non ci si stare, una foto! Uh! Forse è in gewissima C'è sì 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 Un bel che si entra prima Ah이야 Piccяни Cosa questa foto Qu'è lì? Qu'è t' nervous una foto? No Esquúltiore C'è tre, dai, fatemi un segno. 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 C'è tre, dai. C'è tre, dai, fatemi un segno. C'è tre, dai, fatemi un segno. C'è tre. C'è tre.